Amici di milan.soccer eccoci un nuovo appuntamento con voi ve l'avevo promesso eccoci qui perché dobbiamo parlare di una questione non so se avete visto la copertina molto delicata sì perché il milan non si fa mancare niente ora entriamo nel dettaglio della situazione prima però lasciatemi ricordare l'iscrizione al canale qui sotto farla è semplice e gratuita un pollicione un like a questo video e ricordo anche di attivare la campanella per poter rimanere sempre aggiornati con noi quindi farete parte milan di milan.soccer bene 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 allora la questione relativa alla talpa la nuova talpa al fatto che l'inter inizia questo questa navigazione su un mare rimosso nonostante la propaganda di alcuni giornali del va tutto bene beh non va tutto bene ora però si tratta di capire come ci si muoverà in questi termini perché per noi è stato tutto semplice per loro diventa un po più tutto complicato il milan però non perde tempo almeno questo è quello che sta dando a vedere e per quanto concerne la questione relativa alla campagna acquisti o meglio non perde tempo con le qualcuno dirà come non perde tempo hai sempre detto il contrario no è ancora peggio perché non perde tempo dietro alle contrattazioni cioè il principio di base è se devo perdere tempo a contrattare a fare diciamo un tira in molla e poi arriva qualcuno e poi offre addirittura un euro più di me e io non rilancio allora è meglio non perdere tempo e il milan non perde tempo e quindi va su obiettivi anonimi e quindi questo è un aspetto che purtroppo ci sta un po caratterizzando c'è però c'è però qualche eccezione devo essere sincero allora una eccezione è rappresentata da zirk zi qual è la situazione zirk zi beh il milan l'ha definito la prima scelta il prezzo 40 milioni la questione con sale ma che era una questione un po particolare un po delicata perché potrebbe essere sicuramente uno uno sconto uno sconto non dico importante ma insomma che abbatte un po il prezzo del giocatore però la questione tiago motta è una questione veramente delicata cioè tra i due c'è un feeling talmente forte che così come conte vorrà vuole portare lucaco a napoli tiago motta vuole portare zirk zi a torino e quindi questo tira in molla mi fa un po paura perché se vi ricordate l'anno scorso all'ultimo secondo qualcuno ha chiesto ma chi c'è di libero sul mercato c'era libero jovic dopo che ci avevano portato via turam dopo che ci avevano portato via altri obiettivi siamo rimasti con un girù all'ultimo respiro e con jovic che oggettivamente non ci può garantire se vogliamo dire così un futuro un futuro roseo un futuro roseo quindi il milan piuttosto deve sbrigarsi però come dicevo non perde tempo su certi obiettivi e da qualche ora però il milan è andato anche su albert gudmunson obiettivo che il milan ha in qualche modo diciamo così messo sotto la lente di ingrandimento nonostante altre squadre siano su di lui come anche l'inter ma anche la juventus il milan sembrava però sembra essere poi vi spiego perché usavo il tempo al passato usato il tempo al passato sembra essere in vantaggio rispetto alle altre squadre e proprio nel principio del non voler perdere tempo pare che il tempo l'abbia perso perché perché c'è un guaio in vista o noi portiamo sfiga ragazzi oppure ogni volta che noi abbiamo un obiettivo non si chiude o perché offriamo troppo poco o perché è in questo caso albert gudmunson obiettivo appunto del milan rischia almeno un anno di carcere dall'islanda rimbalza la notizia del rinvio a giudizio del giocatore per un presunto caso di molestie sessuali la vicenda è quella già nota risalente all'estate scorsa quando a detta dell'accusa gudmunson avrebbe approfittato sessualmente di una donna conosciuta in un locale di re chiavi le indagini partite già in agosto si erano inizialmente concluse due mesi fa con l'archiviazione del caso la presunta vittima tuttavia ha fatto ricorso ottenendo dalla procura della repubblica non solo che il caso venisse riaperto ma anche che il giocatore compaia in un giudizio davanti al tribunale di re chiavi il prossimo anno cosa rischia ecco qui cosa rischia il rischio in caso di condanna per gudmunson è altissimo per questo tipo di reati infatti la giustizia islandese prevede pene detentive da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 16 anni l'articolo 194 del codice penale generale islandese in materia di reati sessuali recita chiunque ha rapporti o altri rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da 1 a 16 anni dunque secondo la legge il giocatore del generale potrebbe rischiare almeno un anno di reclusione ecco facciamo così adesso visto che il milan si sta dedicando ad altri giocatori faccio un appello a questi giocatori su tutti i cup mayer cup mayers del diciamo così dell'atalanta che è stato accostato in queste ore tra le varie anche al milan e lui potrebbe lasciare l'atalanta e il suo futuro e c'è di mezzo giunto lì bla 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 quindi in questo caso diciamo che ci fermiamo un attimo rispetto a questo giocatore perché per lui in effetti è solo una voce di mercato mentre per il l'islandese gudmunson sembra sembrava sembra essere qualcosa di più ora non credo che il milan voglia ripetere esperienze passate quando giocatori che sembravano come dire integri e scevri da ogni tipo di accusa poi sono caduti purtroppo sotto i colpi della giustizia sportiva e quindi oggettivamente ci siamo ritrovati in quel caso ovviamente il milan non sapeva nulla però in quel caso diciamo che il problema lo abbiamo spostato sul newcastle però in questo caso vedremo quello che succede va bene comunque il milan è su gudmunson gudmunson del del genoa per me è un buon giocatore certo ripeto per quello che mi devo aspettare da una campagna acquisti come la nostra lo ritengo un giocatore che può dare qualcosa poi chi è che aspetta i grandi colpi secondo me rimarrà deluso quindi iniziamo a fare la bocca almeno su questi nomi che comunque in campionato hanno ben figurato c'è un'ultima voce poi l'affronteremo meglio nelle prossime ore ed è berardi del sassuolo questi sono i nomi che stanno girando girando in queste ore fatemi sapere cosa ne pensate di gudmunson di berardi e anche di diciamo così di cup maya nurse del dell'atalanta a dopo ciao